Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo alla FIPILI, dove a causa dei lavori si registrano 3 km di coda tra la Strassegna e Ginestra Fiorentina in direzione Mare, un chilometro di coda invece in direzione Firenze tra Empoli ed Empoli Est. Per traffico intenso invece code alla Strassegna in uscita provenendo da Firenze, rallentamenti in direzione Firenze, tra Scandicci e Firenze-Scandicci. Andiamo con il raccordo Siena-Firenze, dove a causa dei lavori si segnalano rallentamenti tra Colle Valdelsa Nord e Monteriggioni in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!